Buonasera da Marco Capulli e bentrovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca si era allontanata dalla sua casa di battifoglia nel corso della notte. Per fortuna dopo le ricerche questa mattina è stata ritrovata ad Arezzo una ragazza di 15 anni. Dopo una lite familiare la minore sta bene, erano le due di notte di oggi sabato 30 dicembre quando l'adolescente è scappata dalla propria abitazione dopo un litigio in famiglia facendo perdere le proprie tracce. Immediato l'allarme dato dalla famiglia così si è attivata la squadra volante della questura di Arezzo diretta dal dirigente Marco Gallorini con loro una task force coordinata dalla prefettura di Arezzo con due squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Attivato anche l'elicottero Drago si è dovuto aspettare l'alba per poter localizzare la ragazza intorno alle ore 9 e si trovava nei pressi di un bar nel quartiere di Saione ad Arezzo. In buone condizioni di salute gli agenti della volante dopo il ritrovamento hanno riaccompagnato la ragazza a casa. Incidente stradale questa mattina attorno alle ore 10.30 a San Giovanni Valdarno in Via Grucia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e gli operatori dell'emergenza urgenza dell'Asle Toscana Sud-Est. Nello schianto sono state coinvolte due donne di 24 e 64 anni. L'impatto ha provocato il ribaltamento di un'autovettura. Per estrarre le donne sono intervenuti i vigili del fuoco e poi i sanitari per il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale della Grucia del Valdarno in codice giallo. Sul posto vari mezzi di soccorso, tra cui l'automedica del Valdarno, l'ambulanza della Misericordia di Terra Nuova Bracciolini e la Misericordia di Castelfranco. Cambiamo argomento, parliamo di migranti perché arriva dal Valdarno-Retino una storia che riguarda appunto il tema dei migranti e la loro integrazione. Grazie a Settimento. Hanno ucciso mia madre il 23 giugno di quell'anno e mia madre non era parte di questa guerra. Così ho deciso... Scappano dalla guerra, dalla fame, dai soprusi. Cercano una prospettiva di vita, un futuro. Arriva dal Valdarno-Retino una storia di riscatto e accoglienza. Siamo a Terra Nuova Bracciolini. Nella cintura verde attorno a Podererota, l'accordo tra Xai e l'azienda agricola Riofi ha consentito ai migranti, ospitati dalla cooperativa Beta 2, di poter lavorare. Un'assunzione a tutti gli effetti, come si fa in agricoltura, con un contratto di avventizi. Loro ad oggi hanno un contratto che scade alla fine dell'anno, ma che verrà rinnovato. Lo fanno in questi 20 ettari di terreno coltivati a noccioleti. I frutti saranno destinati ad un colosso della cioccolata spalmabile. Imparano un mestiere, tra l'altro, coadiuvati dai nostri dipendenti, che hanno una professionalità ormai elevata e quindi sono capaci di insegnare e affiancare nel lavoro questi addetti. In tutto 40 i migranti accolti dalla cooperativa 19 sono negli alloggi dell'agricola Riofi. In quattro hanno già iniziato a lavorare. Loro vogliono lavorare. Cosa le chiedono? Lavoro, le chiedono lavoro, lavoro, lavoro. Cosa rappresenta per loro poter lavorare, potersi impegnare e non stare invece magari tutto il giorno, insomma, con le mani in mano? Loro rappresenta una prospettiva per il loro futuro. Oltre al lavoro imparano la lingua, si integrano e sognano una vita migliore. Loro sono qui per realizzare dei sogni che nel loro paese non potevano essere realizzati. Confesercenti Arezzo stila il bilancio di un 2023 impegnativo per l'associazione di categoria. Questo anno che si sta per concludere ha rappresentato un periodo durante il quale le piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e del turismo hanno dovuto stringere i denti per far fronte a numerose difficoltà che minano gli equilibri a causa del caro bollette, del caro carburanti e il calo dei consumi dovuto ad un minor potere d'acquisto da parte delle famiglie. Chiara Sadotti Mancano davvero pochi giorni da gennaio, infatti termina il mercato tutelato del gas esclusi i clienti vulnerabili, sentiamo i consigli di Feder Consumatori. Finora nel mercato tutelato le tariffe sulle bollette luce gas sono state determinate da giornate periodicamente da Rera sulla base del prezzo di mercato. Nel mercato libero invece gli utenti potranno scegliere liberamente gli operatori disponibili a derogare offerte differenti tra loro. In quest'ottica sarà possibile optare per un sistema di tariffe fisse o variabili. Non avere fretta perché non viene staccato il gas, soprattutto verificare nei siti deputati di Rera che portare le offerte e lì inserendo tutta una serie di dati compariranno tutte le offerte in vigore nella zona. Il mercato tutelato non cesserà di esistere del tutto, rimarrà infatti attivo per i soggetti vulnerabili. Tutti coloro che hanno compiuto 75 anni d'età, poi tutti coloro che percepiscono i bonus gas, quindi il bonus energia, coloro che hanno la 104, l'intestatario dell'utenza che ha la 104, coloro che vivono in zone soggette a calamità naturale e le isole non interconnesse. Chi non avrà scelto entro gennaio un fornitore del mercato libero entrerà automaticamente a far parte di un regime transitorio nominato servizio a tutele graduali predisposto ad Rera. Continueranno con lo stesso venditore che è quello che forniva la tutela, con tariffe leggermente più care. La fine del mercato tutelato dell'energia elettrica è stata invece rinviata al 1 luglio 2024. Entriamo nell'ambito del tema natalizio e dei festeggiamenti anche per la fine di questo 2023 per far posto al nuovo anno, il 2024. Parlando della città del Natale, dal 1 gennaio 2024 i mercatini tirolesi lasceranno Piazza Grande ma tutte le altre iniziative della città del Natale rimarranno attive fino al 7 gennaio. Greta Settimelli Siamo davvero al rush finale della città del Natale. Da adesso in poi sarà tutta una volata, mi verrebbe da dire, fino all'Epifania. Sì, una volata lunga perché arriviamo al 7 con volumi decisamente diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Fino al 7 gennaio Arezzo continuerà a brillare. Non sarà dunque il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, a portarsi via a tutte le feste come di solito accade. Le meraviglie della città del Natale andranno avanti, complice il calendario, fino al 7. Dalla Fortezza delle Meraviglie alla pista del ghiaccio, dai mercatini alla ruota panoramica, nella parte più alta della città sarà dunque possibile vivere ancora la magia del Natale e perché no visitare anche i musei aretini. Sì, continuo fino al 7 sia il Prato che la Fortezza che sa Iacomo e Piazza Risorgimento. L'anno scorso in quel periodo abbiamo avuto sorprese nel senso che abbiamo avuto grandi afflusse musei, abbiamo avuto comunque gente, comunque prenotazioni, quindi contiamo, confidiamo sul fatto che anche quest'anno prosega questa nuova tradizione. Una volta Natale finiva quasi tutto e negli ultimi due anni diciamo che è andata un po' diversamente e ovviamente siamo contenti. Questa rimarrà nella storia ovviamente come l'edizione che ha frantumato tutti i record. Immagino che insomma dietro ai record poi ci siano state anche le polemiche. Come si reagisce a queste e come si migliora, lo ha detto anche il sindaco in conferenza stampa, una macchina che però insomma funziona a gonfie vele? Alle polemiche si reagisce non reagendo, nel senso che io capisco qualche disagio che c'è stato nel weekend dell'Immacolata, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto un afflusso di persone che è stato anche superiore alle nostre aspettative, senza ombra di dubbio, favorito anche dal meteo perché noi in questa edizione del Natale per ora toccando ferro diciamo che siamo stati anche fortunati dal punto di vista meteorologico e il prossimo anno è un problema che non si pone perché il prossimo anno l'otto viene di domenica quindi non ci sarà questo tipo di problema. È chiaro però che su un meccanismo così grande, diventato grande, qualche punto di, qualche nervo scoperto ce l'abbiamo e cercheremo di coprirlo. Il prossimo anno vedremo come organizzare la cosa, come pensare ai servizi accessori perché poi alla fine la manifestazione, la rassegna di per sé va bene, c'è qualche piccolo accorgimento da prendere e lo prenderemo. Sotto il profilo più che altro dei parcheggi, delle navette? Ma sì, diciamo che il problema quest'anno si è verificato con i posti auto perché sono arrivate tantissime auto in città, soprattutto tantissimi camper e i camper non abbiamo aree attrezzate tali da ospitare mille camper in tre giorni e non sarebbe giustificato perché non è la destinazione da camperisti, però se lo diventa bisogna prenderne atto. Ed è stata firmata un'ordinanza da parte del Comune di Arezzo che dispone nei giorni di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio il divieto di accendere fuochi d'artificio e altri giochi pirotecnici come petardi e mortaletti in tutta l'area del centro storico sia nella ZTLA che in quella B. Inoltre dalle ore 12 di domenica 31 e fino alle ore 7 del giorno di Capodanno è titolare degli esercizi commerciali come bar alimentari, locali dotturni, ristoranti eccetera, di piazza Sant'Agostino, via Garibaldi nell'area compresa fra Corso Italia e via della Minerva, nel tratto di via Margaritone compreso tra piazza Sant'Agostino e via Pietro Aretino, nella galleria Benedetto Cairoli. Nell'area di via Pietro Aretino sarà vietato somministrare e vendere anche per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e lattine. Le violazioni verranno punite con stazioni fino a 200 euro. E a proposito di botti e fuochi d'artificio sappiamo come questi possono essere nocivi e spaventare i nostri amici a quattro zampe. Sentiamo il servizio di Chiara Sadotti. La raccomandazione è che chi ha gli animali li tenga in casa perché l'animale può scappare, può essere causa di un incidente o farsi male per se stesso in maniera importante. Sono questi consigli da parte dell'EMPA, l'ente nazionale protezione animali, da seguire per aiutare i nostri amici a quattro zampe a vivere al meglio un periodo particolarmente stressante per loro. San Silvestro è la vigilia del Capodanno con i suoi festeggiamenti e soprattutto i suoi botti. Il botto fa paura e io dico che è proprio anche il botto che viene dei ragazzi che cominciano a luna dell'ultimo dell'anno a buttare per strada questi grossi pedardi, impauriscono gli animali e la mattina del primo gennaio obiettivamente qui qualche cattura in più durante la notte accade. Sempre in difesa degli amici a quattro zampe, in Toscano ormai da alcune settimane è definitivamente vietato tenere cani alla catena con la modifica del regolamento regionale del 2011. Nelle nostre campagne ne abbiamo diversi di cani che vivono appunto al campo cosiddetto, ecco oltre a relegarli a un campo non leghiamoli anche a una catena perché è vietato e quindi se attiviamo, se noi veniamo a saperlo con l'assessore siamo già d'accordo, che attiviamo il nucleo operativo dei vigili urbani e c'è una multa anche importante. Cittadino che vede un comportamento sbagliato, a chi lo può segnalare? Alla nostra Polizia Municipale oppure una segnalazione anche alla mia e-mail che poi io attivo sia le guardie zoofile che la nostra brava Polizia Municipale. E l'abbiamo già anticipato, mancano poche ore ormai al termine di questo 2023 e all'arrivo del 2024, tante le speranze degli aretini per il futuro, sentiamo come si preparano a festeggiare l'arrivo del nuovo anno e con quali aspettative. Alle spalle è un anno impegnativo direi per tanti motivi, comunque la speranza è quella che il prossimo sia, come dire, come diciamo sempre, migliore, proficuo, che porti soprattutto un po' di pace e di serenità a tutti quanti. È sicuramente un augurio di pace quello espresso da tanti aretini a quali abbiamo chiesto cosa vogliono lasciarsi alle spalle di questo 2023 che sta per concludersi, ma anche cosa vogliono portare con sé nell'anno che verrà. Per l'anno nuovo mi auguro pace, veramente tanta pace, perché non se ne può più e non riusciamo a festeggiare pensando alle persone che stanno peggio di noi e ce ne sono tante in giro, tante, non solo in Ucraina, ma anche qui, non se ne può più, è vero. Cosa vuoi lasciare alle spalle di questo anno e invece cosa tiene con sé? Allora io tengo con sé l'amore che porto sempre dentro per la mia famiglia e questo è quello che vorrei conservare, pensando di poterci un pochino sempre più bene, perché comunque siamo diventati troppo cattivi. Di riuscire a continuare gli studi e di lasciare alle spalle rancori e cose del genere. Come tutti gli anni speriamo che sia migliore l'anno successivo di quello passato. Però va bene, siamo contenti. Gioco a pallavolo, sono una pallavolista, quindi mi tengo quello che è stato nella pallavolo, quindi infortunio, momenti brutti, momenti belli, però sono soddisfatta di quello che è stato, mi sono laureata, quindi sono pronta per il 2024. Una colazione al museo per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Tra i tesori etruschi del Mike si rinnova il tradizionale appuntamento a Cortona. Il primo gennaio le sale di Palazzo Casali ospiteranno il tradizionale evento giunto alla sua quindicesima edizione. Sentiamo. Il primo di gennaio a Cortona torna la tradizionale colazione al museo. Il Mike è pronto ad ospitare nelle sale di Palazzo Casali la quindicesima edizione dell'evento che anche quest'anno promette di far parlare di sé. Quando la maggior parte dei musei nazionali resta chiuso, Cortona sceglie di andare controcorrente dando vita ad un'iniziativa che attrae visitatori da ogni parte d'Italia che scelgono di passare le vacanze di fine anno nella cittadina etrusca. L'edizione di quest'anno catapulterà il visitatore nel fascino dell'atmosfera del Cinquecento con i saloni di Palazzo Casali elegantemente imbanditi riscoprendo i costumi e i sapori del rinascimento italiano. Ad accompagnare in questo viaggio del tempo ci penserà un padrone di casa d'eccezione, Messer Luca da Cortona. La colazione al museo di quest'anno infatti vuole essere un ulteriore omaggio alla figura di Luca Signorelli che proprio nel 2023 è stato protagonista in città di una mostra di assoluto prestigio internazionale voluta per celebrare i suoi 500 anni dalla morte. Dal 27 di gennaio fino al 12 marzo nella Cappella Baci della Basilica di San Francesco di Arezzo prenderà il via all'altezza di Piero. Visite straordinarie al cantiere di manutenzione del ciclo di dipinti murali della leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Dal prossimo 10 gennaio 2024 infatti l'opera verrà sottoposta ai lavori di manutenzione e revisione conservativa a cura della direzione regionale dei musei della Toscana che per l'occasione ha deciso di allestire un punteggio accessibile che offrirà a piccoli gruppi di visitatori l'opportunità eccezionale di ammirare il ciclo di dipinti murali da una prospettiva assolutamente diversa e inedita. Più o meno come abbiamo visto nel famoso film Il paziente inglese insieme alla Fondazione Arezzo in Tour che gestisce i servizi museali dei musei statali aretini sono state quindi organizzate visite speciali accompagnate da una guida esperta che avranno la durata di circa un'ora e saranno presto prenotabili online. Ed è uscito il Super Zibaldone aretino, il quarto e ultimo volume della quadrilogia ideata dalla cartaria aretina che recupera luoghi, storie, personaggi persi nei meandri del tempo, 11 autori diversi per un libro sorprendente e variegato che non può mancare nella libreria di ogni aretino. Apre la città di Guido nella cornice della Sala di Sant'Ignazio, una video installazione dedicata a Guido Arezzo da oggi 30 dicembre fino al 7 di gennaio con orario 14-19. Il millenario della nomina di Teodaldo come vescovo della nostra città offre spunto per l'allestimento di una mostra dedicata a Guido Arezzo che permetterà di rivivere una pagina fondamentale della nostra storia. Grazie a Teodaldo Guido ebbe modo di applicare proprio ad Arezzo una semplice invenzione che di fatto ha consegnato la musica al mondo, la scrittura musicale su Rigo. Il progetto è curato da Cecilia Luzzi e l'allestimento è stato realizzato da Cultura Nuova con l'organizzazione della Fondazione Guido Arezzo, il Comune di Arezzo ed il contributo del Ministero della Cultura. Rinnovata e prolungata di tre anni la convenzione tra Comune di Arezzo e il Museo dei mezzi di comunicazione MUMEC che continuerà quindi fino al 31 dicembre 2026 a rimanere nella propria sede di via Ricasoli. Tre anni di passaggio durante i quali sono previsti lavori di riqualificazione ed seguimento strutturale del primo piano di Palazzo Perelli di via Cesalpino, già Banca d'Italia, destinata ad ospitare la nuova sede del MUMEC, un intervento che il Comune di Arezzo potrà realizzare grazie anche alla partecipazione della Regione Toscana con opere di risistemazione dell'immobile destinato ad accogliere la collezione. Fino a domenica 7 di gennaio niente compiti a casa per gli alunni. Ad esplicitarlo il pediatra Italo Farnetani. Chiara Salotti. Non fare i compiti, disobbedienza civile, godersi le vacanze a pieno e soprattutto alla fine mandare una giustificazione onesta. Stop ai compiti per le vacanze natalizie. Questo è il consiglio del pediatra retino Italo Farnetani in merito all'assegnazione dei compiti agli studenti durante il break di dicembre. Le vacanze natalizie sono state create ormai da decenni per far vivere ai bambini l'intensità della famiglia. Questa gioia natalizia, questi riti che diventano poi le radici dei bambini. Perciò non ha motivo che gli insegnanti interferiscano con questo obiettivo pedagogico e diano i compiti delle vacanze. Gli svantaggi sono due. Innanzitutto si interrompe questo periodo di festa. Si limitano anche gli spostamenti, c'è l'ansia anche da parte delle famiglie di fargli fare i compiti e tutto. E poi il bambino si mette a studiare in modo svogliato. Vi immaginate, da una parte c'è l'abbre di Natale, dall'altra parte il presepe. Pensa a Babbo Natale che è arrivato e tutto, ai regali che ha avuto e c'è da fare i compiti. Alla testa e da un'altra parte. Perciò creano uno stress alla famiglia e creano una cattiva abitudine di apprendimento. I genitori, io ho consigliato, l'8 gennaio scrivano, io dice, io, noi genitori non abbiamo fatto fare i compiti delle vacanze perché abbiamo ritenuto di fargli vivere il Natale a pieno. Non va bene invece creare una scusa perché il bambino capisce che si può prendere in giro l'insegnante, l'autorità. È un fatto diseducativo. Andiamo alla pagina sportiva con il calcio. L'Arezzo, Emiliano Pattarello, giocatore amaranto classe 99, in queste ore finito al centro di una trattativa di mercato con la Reggiana. Il giocatore piace molto al DS Granata Roberto Goretti. Pattarello però è un giocatore di grande valore e utilità per l'Arezzo di indiani con numeri importanti già in questo inizio di stagione. 18 presenze su 19 partite di cui 17 da titolare. 3 gol, 5 assist, 2 rigori procurati. Il giocatore è sotto contratto con il Cavallino fino al 2025 con proposta di prolungamento fino al 2026. Non si sa se andrà in porto alla trattativa ma il calciatore di fronte alla ghiotta prospettiva di giocare per la prima volta in Serie B dopo due campionati vinti in D e varie esperienze in Serie C probabilmente sarà tentato e anche di parecchio di fare le valigie per l'Emilia. Pattarello avrebbe un valore di mercato che si aggira sui 200 mila euro secondo Transfermarkt e bisognerà aspettare le prossime mosse della Reggiana la prossima settimana per saperne di più. Intanto il 2 di gennaio comincerà ufficialmente il calciomercato. L'Arezzo avrebbe un urgente bisogno in entrata di un nuovo attaccante da affiancare a Gucci e Grisalfi. Intanto Kozak non è più nei piani del Cavallino come ha già spiegato il direttore generale Giovannini. Questa era l'ultima edizione in presenza del nostro telegiornale del 2023 da Marco Capulli, Mirko, Matteaggi e Regia. Tutta la redazione, la società, tutto il nostro staff, i nostri sponsor e i tecnici di Arezzo TV colgono l'occasione di augurare a tutti voi un buon 2024. Grazie.